Il Valdichiana Outlet Village è la prima struttura in Italia di questa tipologia ad essere cardioprotetta, una scelta voluta dalla direzione in collaborazione con l'ASL, il Comune e le associazioni di volontariato. I numeri che ci riporta l'ASL sono numeri abbastanza preoccupanti e significativi. I numeri che realizza tutti gli anni Valdichiana lo stesso, perché appunto ha 4 milioni e mezzo di visitatori, 800 dipendenti, il rischio è chiaramente molto elevato. Quindi abbiamo accolto e sposato questa proposta e questa iniziativa, ci siamo dotati di questi strumenti veramente innovativi, perché appunto sono collegati con la rete direttamente del 118, abbiamo formato una squadra di persone, di dipendenti, di uno staff che è capace di poterli utilizzare al meglio e chiaramente ci dà naturalmente un ottimo motivo d'orgoglio, chiaramente, è un'ottima cosa per quanto riguarda la nostra struttura, ma ci dà anche molte più garanzie, molte più sicurezze, sia noi come gestori, ma anche chiaramente per i clienti, per tutti i frequentatori. I depredatori sono quelli di ultima generazione, che sono depredatori che parlano direttamente in centrale, in centrale riusciamo finalmente a vedere quando viene preso, quando viene massaggiato il paziente e soprattutto quando viene data la scarica del depilatore, quindi seguiamo in diretta la reanimazione cardiopolmonare e pertanto possiamo veramente guidarla a questo punto anche della centrale, non solo essere soggetti passivi e sapere come è andata a finire, ma intervenire anche in merito alla reanimazione cardiopolmonare, se è fatta bene o non fatta bene. E' l'outlet più organizzato per la cardioprotezione, non solo perché c'ha sei defibrillatori e un massaggiatore cardiaco automatico, è una rete di soccorso organizzata, che ora ci vorrebbe troppo tempo per descrivere, che lo mette in condizione anche per tecnologie scelte di essere inserito nella rete dell'emergenza e urgenza. La nostra rete dell'emergenza e urgenza, sapete, fare migliori d'Italia, alcuno dice la migliori d'Italia, quindi questo per noi è un tassello davvero di grande soddisfazione e quindi vorrei ringraziare anche i protagonisti di tutto ciò.